Sta per succedere qualcosa. Lo sentite anche voi, vero? Ci stiamo avvicinando sempre più all'abisso. So che siete là fuori. E so che state soffrendo. Ma figli miei, io sono qui per dirvi che la sofferenza è una scelta. E che voi potete scegliere una via migliore. Vi vogliamo. Vi accettiamo. E vi prenderemo. Quello vogliate o no. Alcuni resisteranno. Ma alla fine ci ringrazierete. Io sono vostro padre. E voi siete i miei figli. Noi. 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 La fine è vicina. Vi condurrò nell'Eden. Perché voi siete miei figli e io vostro padre. Noi. 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 Grazie a tutti.